Regali e foto vicino agli elicotteri con la certezza di aver strappato almeno per il Natale un sorriso ai bambini di alcune famiglie bisognose di Pescara. Un momento di vicinanza organizzato dal comando provinciale del reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza. Dico io per fortuna che il Covid quest'anno e lo scorso anno ha aperto i cuori un po' di tutte per tutte le persone. E noi dobbiamo ringraziare veramente di cuore quest'anno la Guardia di Finanza in primis e tutte le altre associazioni che ci sono state vicine. Nei giorni scorsi è proseguito il piano Natale sicuro dei Baschi Verdi, sequestrati 58 mila prodotti regolari tra gadget, souvenir e peluche. Le fiamme gialle di Pescara hanno infatti individuato articoli non conformi agli standard di sicurezza prescritti dalle normative europee. Soprattutto andando a arginare il fenomeno della contraffazione di prodotti che sono pericolosi alla salute dei cittadini e andando a contrastare pratiche commerciali che pregiudicano l'operato degli esercenti che rispettano le regole. Nell'occasione è stato presentato il nuovo velivolo Augusta Westland 139, da poco assegnato a Pescara, il quale potrà svolgere controlli in ambiente aeromarittimo e di controllo del territorio grazie a numerosi sensori e sistemi di ricerca all'avanguardia. Non facciamo altro che implementare la dotazione che già avevamo, che era una bella dotazione, perché ho detto che avevamo già un elicottero della stessa serie. Ora ne abbiamo due, quindi potremo aumentare le nostre ore di volo, potremo aumentare il tempo che possiamo trascorrere in mezzo al mare o sul territorio per contrastare quelli che sono i traffici illeciti.